Ecco il secondo gruppo, il blocco storico dell'anno scorso, abbiamo per la prima volta Johnny Perrucci nel ruolo di portiere, oh all'incrocio dei pali, che l'ha fatto sto dire, ecco abbiamo il nostro bomber Tei di Mata in forma, abbiamo Michele che sorride, qui abbiamo un gradito ritorno di Cola Nero che l'anno scorso non ha potuto giocare perché rientrava nella categoria allievi e noi l'anno scorso non abbiamo potuto allestire una formazione di allievi, quest'anno invece sì, è ritornato un gradito ritorno di Cola Nero Amedeo, abbiamo qua anche Michele Daniello dopo un periodo di ossigenazione a Pennadomo in montagna, è ritornato Pimpante, abbiamo Caran, abbiamo il nostro Nicola Perrucci, il nostro Cristian, Guido, Tei di Mata, il goleador, abbiamo il nostro Enrico, è pelato, il nostro mister ancora più grintoso, ecco sto arrivando, bravo, bravi ragazzi, bravi, che l'ha fatto?